Benvenuto Mario, ha 27 anni, l'anno scorso hai fatto 19 gol in Serie D, sei stato in piazze importanti come Sassuolo, hai già giocato in B, hai già giocato tra i professionisti e hai voluto fortemente Piacenza. Cosa ti ha spinto a venire in questa piazza? Mi ha spinto che quando il presidente ti vuole, un mister fa il nome che sei la prima scelta, poi ho usato subito l'area di un progetto vincente, quindi non ci ho pensato un attimo perché Piacenza come tutti sanno è un gran club, quindi è difficile rifiutare. Quali sono i tuoi obiettivi per questa stagione a livello individuale, di squadra, cosa pensi di dare a questo Piacenza? Il mio obiettivo è dare il massimo quando scenderò in campo, quando il mister mi chiamerà in causa, di dimostrare il mio valore, quindi con tanta umiltà, con tanto sacrificio dimostrerò il mio valore. Vestirai la maglia numero 10, una maglia importante, appartenuta a grandi campioni, cosa rappresenta per te questa maglia da portare sulle spalle? È una maglia importante, è una maglia che mi fa piacere che l'hanno indossata altri campioni, me la prendo senza parlare di niente, mi prendo responsabilità di tutto e cercherò in campo di dimostrare il mio valore. Grazie Mario, benvenuto. Grazie Grazie Grazie